C'è anche un aspetto economico, l'occupazione, l'occupazione dei giovani, la difesa può essere un volano di sviluppo? La difesa è un volano, è un volano che deve essere compreso, nel senso che non dobbiamo produrre di più in armamenti per fare la guerra, ma dobbiamo produrre di più in tecnologia, innovare in ricerca per garantire la pace.